Giuseppe Simone Sì, tutto bene Perfetto, che cosa ti esibirai adesso? Suonerò al pianoforte Ok, allora comodoti nella tua postazione Giuseppe Simone Allora, il prossimo brano io ve lo presento perché Giuseppe non solo lo suonerà ma l'ha composto lui quindi vorrei un applauso doppio il brano si chiama Si Giù per voi Giuseppe Simone Bravo Giuseppe! Il prossimo brano è sempre scritto da Giuseppe ma sarà interpretato, sarà suonato dal nostro insegnante di pianoforte Pasquale Priore il maestro Priore e per questo brano questo brano è dedicato ad un piccolo angelo che non c'è più questo brano è dedicato alla piccola vittoria non c'è più Grazie a tutti. Grazie a tutti.